E' troppo lontano! Io ci provo. E' fin troppo facile. Oh no! Oh no! Che c'è? Sono in troppi. È sbacciato. Oh, santo cielo! Aspetta! Che senso ha avvertirlo? Non può più salvarsi. Ehi, che vedete da lassù? Sai che non può farcela. Lasciagli finire il lavoro. Se ne andrà senza sentire nulla. Via Libra. Tutto ok. Ok, non dirmelo. Mi sono addosso. Mi spiace. Come detto, nessuno ha il coraggio di dirmi la verità. Preparo il detonatore. Ok. 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 Chiari che pensate? 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 Stiamo arrivando. Ti tengo. Andiamo! Dove cazzo è saliva? Quelle cariche hanno funzionato. Mi sa che qui sta per venire giù tutto. Quello è Salim. È ancora vivo! Salim, rispondi. Ci sei? Sono circondato. Si mette male per me. Vampiri. Vampiri o ovunque. C'è poco da pensare. Se torniamo là sotto, moriamo con lui. È un uomo morto. Andiamo! Quell'uomo non è uno di noi. Vado. Salim è uno di noi ora. I marin non lasciano i compagni. Mi senti, Salim? Dovessi morire qui. Dì a mio figlio che ho fatto il possibile. Glielo direi tu. Vengo a prenderti. Vengo a prenderti. Voli tu andare via alla festa? Ah-ah-ah. Jason! Diavolo, avresti potuto colpirmi? Già. Andiamo via da qui. Sì. Qualche pipistrello non ti ucciderà. Ragazzi, è stata una cosa fuori di testa. Quei bastardi c'erano addosso. Ma io e Salim abbiamo sfondato in mezzo come se fossimo al Super Bowl. Ascoltate, non siamo fuori pericolo. Ma voi ragazzi, cazzo, siete i migliori. Anzi no, il meglio del meglio. E torneremo a casa. Hurra! Hurra? Hurra! Su, presto! Io ti seguo! C'è qualcosa? Clarice! Révatore le mezzo! Révatore le mezzo! E' morto nel momento in cui l'hanno presa. Non dovevo portarla qui. Non dovevo portarla qui. Non dovevo portarla. E' morto! Non dovevo portarla! C'è una uscita. Arrampichiamoci. C'è una uscita. 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 in libertà. C'è una uscita. C'è una uscita. C'è una uscita. C'è una uscita. Il meglio del meglio. C'è una uscita. 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 C'è una uscita.